Durante quest'ultima settimana della moda stiamo vedendo moltissimi stilisti che si ispirano a icone del passato, esatto, anche a rock star come Lou Reed, come David Bowie, come mai secondo ti c'è questo ritorno alle icone del passato? Oggi non abbiamo icone che possono eguagliare quelle del passato? Assolutissimamente no, ma non no per talento, perché il mondo va talmente veloce che al giorno d'oggi non c'è neanche il tempo per far diventare un artista un'icona, una volta si poteva fare un disco, poi ci si metteva nell'eremo per 3-4 anni e poi si poteva tornare a fare la propria arte, al giorno d'oggi devi essere talmente veloce che devi fare praticamente una roba dopo l'altra, non c'è neanche più il tempo per l'attesa, per far diventare veramente un artista come dicevo prima, un'icona e poi la poesia del passato è sempre la poesia del passato, chissà se tra 20 anni, 30 anni, 40 anni diranno delle star di adesso, magari averne come quelle di 20 anni fa, non lo so, però se prendi come esempio Lou Reed, se prendi David Bowie, se prendi tutto quello che è stato il punk, Sex Pistol, Malcolm McLaren, Sid Vicious, tutta questa gente, sicuramente hanno dettato moda all'epoca e possono farlo anche adesso. Sei un'icona di oggi, mentre Rich Manda ha mostrato un'icona del passato, come ci si sente in qualche modo a rappresentare anche un simbolo per i giovani, per gli appassionati di re? Non voglio permettermi di accostarmi a un personaggio come Lou Reed, come hai detto prima, è veramente troppo più importante, troppo più grosso, però sicuramente è stata per me un'esperienza, la prima esperienza, una sfilata, è stata molto molto bella. Il tuo grande successo è quello del rap in questo momento in Italia, forse probabilmente sintomo di una nuova esigenza, tu come lo spieghi? Spiego che la discografia è cambiata, tramite internet la meritocrazia si sta facendo avanti in un paese in cui la meritocrazia probabilmente non è mai esistita, vediamo come va. Tu adesso in qualche modo stai aiutando a diventare delle nuove icone, dei nuovi idoli, giovani che sul web in qualche modo esprimono la loro arte, come Frank Matano, Chiara Biasi? Guarda, questa è una cosa che è nata un po' per scherzo un po' di anni fa, quando ho visto Frank per la prima volta nel 2008. Io bazzicavo su YouTube già da parecchio tempo, però vedo questo ragazzo che faceva gli scherzi, sono andato a casa sua, abita a Carinola in provincia di Caserta e ho visto questo ragazzo che faceva questi scherzi al computer proprio in uno stanzino e ho detto ciao, secondo me questa roba qua potrebbe essere forte, vieni a Milano e vediamo cosa può succedere. Così nel corso del tempo questi ragazzi presi da internet veramente in maniera così amichevole, cioè vieni vediamo se riusciamo a condividere un percorso insieme, sono diventati delle entità importanti, credo che al giorno d'oggi i talenti del futuro e del presente siano tutti web nativi, cioè tutti nati sul web, tu hai citato Frank, poi c'è Chiara, adesso abbiamo preso Mariano Di Vaio che è un altro blogger italiano, uomo che ha più di un milione di fan su Instagram e piano piano cerchiamo senza fare mass market di talenti, cioè senza prenderne troppe, di prendere in ogni campo le teste di serie e con Chiara per esempio è andato molto bene e credo che, ripeto, il web sia la palestra, la focina dei talenti del futuro ma anche del presente. In qualche modo come ti spieghi questo successo incredibile per esempio di questi fashion blogger? Perché? Perché sono nel posto giusto, al momento giusto e mentre una volta la televisione era la verità assoluta, adesso non lo è più, adesso addirittura chi è in televisione quasi non è più neanche più figo, cioè non è più cool. E invece chi sta su internet al giorno d'oggi è figo, non è importante cosa dica, non è importante cosa faccia, ma è figo a prescindere. Poi se ci metti la faccia giusta, il concetto giusto, il messaggio giusto, il posto giusto, il momento giusto c'è il boom, nei fashion blog, citiamola Ferrani come prima e poi tutte le altre, tra cui anche Chiara Biasi che avevano tutte le carte in regola e ne verranno ancora altre. Quando dicono che ormai il concetto blogger è saturo, è vero, ma credo che ce ne sia ancora, ce ne sia ancora, perché comunque ne nasceranno nuove, ci sono ragazzi di 16 anni, 17 anni incredibili che hanno centinaia di migliaia di fan su Facebook che nessuno conosce, che verranno fuori tra poco, per cui bisogna solamente stare attenti e dargli la possibilità di esprimersi, questo è quello che faccio io senza imporre le mie idee, io ho una factory più che una società, la mia è una factory dove un sacco di ragazzi vengono, abbiamo fotografi come Nima Benati, abbiamo un bravissimo videomaker come Iconise che è anche un blogger che era qua in giro prima, tutti ragazzi molto giovani che hanno solamente voglia di dimostrare quello che sono e io sono una sorta di amplificatore, metto dentro il jack e li faccio suonare. Grazie mille. Grazie a voi, ciao! Ciao!